è città ma sembra un oasi naturale la riserva della pineta danunziana di pescara riaperta oggi dopo i lavori di sistemazione delle alberature la riapertura della riserva è stata festeggiata con soddisfazione dall'assessore al verde del comune di pescara paola marcheggiani era caduto un albero improvvisamente dopo il passaggio di una scuola alla fine di ottobre per cui noi abbiamo deciso di chiudere la riserva per renderla e ridonarla più sicura sono stati fatti tanti studi circa 430 analisi visuali di stabilità 430 e quindi di cui 20 poi sono stati gli interventi strumentali su questi alberi abbiamo deciso di rendere sicuri i sentieri e abbiamo interdetto al pubblico con questo sistema palo corda palo una grande quantità di riserva in maniera tale che abbiamo rispettato ciò che nel piano naturalistico abbiamo sottolineato che questa è una riserva non è un parco per cui abbiamo delimitato queste zone nel rispetto della natura e per la sicurezza dei cittadini iniziamo da lunedì la ripiantumazione sono state abbattute circa 170 piante ma di queste 130 erano morte in piedi erano rimaste lì e quindi potevano essere un pericolo proprio per la salute e la sicurezza dei cittadini dei fruttori della riserva ne ripiantumiamo appunto 1500 arbusti e 500 alberi e tutto questo poi fa parte di un progetto generale che coinvolgerà tutti i parchi cittadini e le vie con altri 2000 esemplari di piante che saranno piantumate per tutta la città